E' la nostra cassa principale, insieme alla cassa di Firenze, ci regola, ci ci fissa appunto le regole principali sulle basse di quali proprio il nostro movimento è nato. Ed è nato proprio sulla base di queste regole che sono fissate volutamente da una cassa che non si chiama, perché noi non siamo un'organizzazione in senso proprio, cioè una di quelle che già conosciamo, non siamo un partito, non siamo un'associazione, nessuno dei movimenti che conoscete che avete visto in giro per l'Italia è costituita in associazione per se stesso, magari è costituita delle associazioni per altri motivi, tipo richiedere il suolo pubblico o altro, cioè funzionalmente ha delle azioni, però non siamo assolutamente costituiti attraverso un'entità, la prima entità sono i cittadini ed è l'unica che resta fino alla fine, anche gli eletti non sono altri che i cittadini portavoce, non a caso, non sono dei leader, solo portavoce. Giusto? E questi portavoce tra l'altro, ma sono gente di carriera che si fa sulle nostre spalle un nome, una reputazione e magari anche dei soldini, occultamente, oppure succede qualcosa di diverso? Cos'è successo Mattia? È quasi un anno che gira. Mattia, penso che si dimenticherà presto, poverino, perché in realtà non sono nessun vantaggio, non si è affatto, essere portavoce è soprattutto una responsabilità, è una grandissima responsabilità, potete chiedere sia a Mattia che il consigliere comunale, ma anche ai consiglieri di zona, ciascuna persona che diventa portavoce per il Movimento 5 Stelle e si fa carico di un onere, perché riportare la voce di tutti i cittadini non è semplice, eppure questo è il loro obiettivo, loro sono semplicemente il nodo di una rete, una rete che ha tantissimi nodi e che raccoglie quindi tantissimi influenti, che cosa fanno i portavoce? Per prima cosa pensano a riportirci tutto, nel senso che la prima cosa, prima ancora di cominciare il giro andato, perché Mattia si è trovato davanti tutta una serie di regali di cadorsi, che non capiva da dove ne vissero, e che per gli altri erano assolutamente normali, anzi, impontati, in parte dall'area C, l'accesso all'area, non si avete presente la superarea VIP degli aeroporti di Lisea, no? La super lusso, lei ha avuto questa carta bellissima, long guard, guard gold, meravigliosa, ha ovviamente riferito ciascuna di queste cose indietro all'immittente, con, ah la scala che è in meno, perché anche quella è in più,